Non ho mai disegnato, proprio pensando al disegno l'ho fatto, butto giù, butto giù quello che viene e poi lo elaboro. Tanti sono stati venduti alle mostre all'estero. Mi aiuta, sì, mi rilassa soprattutto. Io vi faccio tutti i colori, tra il giallo e il rosso. Il blu anche mi piace, mi piace quasi tutto. Questo è il nero, questo è il nero, è la faccia nera. Questo è un posto che dà la possibilità di esprimersi a chi manifesta un'intenzione più o meno direttamente. La possibilità che possa essere per lui positivo però di esprimersi attraverso mezzi artistici. Quindi qui negli anni, anche anni 80, 90, si è radunato una quantità di talenti incredibili. Quindi molte opere sono in un sacco di musei importanti in giro per il mondo. Le mostre hanno cercato tutte le capitali del mondo, sono quotazioni altissime di alcuni autori. Una cosa appoggia a rubirmi qui? ApAirossi 아파teruntercetti. Sì, non però non possiamo! Lo posso appucciar sp complicated il mondo, appoggiare le nostre… Ho appoggiato! Ora veniva a Buzz Spencer, lui, c'era una faccia da boxer, e Buzz Spencer con Terence e io. Questa è la strada russa dell'Unione Sovietica, faccio il martello, e questa è la Vangela nazista in versione tropicare, cioè delle isole. Poi due cacce russi, un MiG-15 e un MiG-26, the mutual film di Top Gun. Ora speranze non interessi a qualche criminale che vuole dominare il mondo. Ci sono anche sentimenti in un'espressione artistica. Ci sono sentimenti di rabbia, sentimenti di delusione, sentimenti di gioia. Per me è importante venire e scaricare le mie rabbie, i miei dolori, come il fumetto che sto facendo adesso. L'ho iniziato in fase negativa e ora che mi sento un po' meglio lo sto prendendo a ridere, lo faccio il più ironico possibile. L'ho iniziato in fase negativa e ora che mi sento un po' meglio lo sto prendendo a ridere. L'ho iniziato in fase negativa e ora che mi sento un po' meglio lo sto prendendo a ridere. L'ho iniziato in fase negativa. L'ho iniziato in fase negativa e ora che mi sento un po' meglio lo sto prendendo a ridere. L'ho iniziato in fase negativa e ora che mi sento un po' meglio lo sto prendendo a ridere.